Il programma è come sempre importante con tre personalità del mondo del teatro italiano e cominciamo con Fabrizio Ventivoglio, domenica 10 luglio, in lettura clandestina La solitudine del satiro, di Ennio Flaiano, quindi un importante spettacolo che sostanzialmente verrà recitato dall'attore Fabrizio Ventivoglio insieme a Ferruccio Spinetti che farà il contrapunto musicale. Un spettacolo importante, ci attendiamo tanta gente, credo che sia un buon modo per ripartire dopo due anni di pandemia che hanno inevitabilmente come tutto bloccato il nostro festival. Il secondo appuntamento è mercoledì 27 luglio, con lo spettacolo Ghita, storia della fornarina con Giulia Bellucci, che tra l'altro è forse empronese, per la regia di Giacomo Ferraù prodotto da Eco di Fondo con il sostegno dell'AMAT del Comune d'Urbino e quindi vedrà il ritorno di Giulia Bellucci nella sua terra d'origine, forse empronese e questo ci fa particolarmente piacere. Il terzo chiudiamo con Francesco Montanari in processo a Shylock, ideato e diretto da Elena Marazzita dove l'artista romano sarà accompagnato da Paolo Recchi al sax soprano e da Massimo Moriconi al basso elettrico. Credo che siano tre autentici talenti del teatro italiano per un cartellone importante che mischia sempre comunque il classico e il moderno, credo che sia un momento importante per la città e anche per la fondazione che sostiene questo festival. Mi piace anche ricordare che quest'anno è il 530esimo anno dall'istituzione del Monte di Pietà di Fossombrone, poi è divenuto Monte di Gietosopegno e la fondazione Monte di Pietà è la naturale continuazione di tutta questa storia, quindi 530 anni vanno celebrati e credo che questo cartellone ci consenta di celebrarlo degnamente.